Il primo atto che io farò dopo la convalide degli eletti è la risoluzione, l'annullamento del contratto con la Biopower e cioè con quel temibile insegnatore che vogliono bruciare l'immondizia, l'hanno detto nel loro programma, annullerò quel contratto e parallelamente attraverso, tramite l'ufficio tecnico, ordinerò la devolizione delle opere abusivamente realizzate liberando le aree per la localizzazione di nuove industrie che abbiano un ritorno occupazionale di industrie sostenibili. Questo è il mio primo impegno che prendo con voi. Il primo atto che io farò dopo la convalide degli eletti è la risoluzione, l'annullamento del contratto con la Biopower e cioè con quel temibile insegnatore. annullerò quel contratto e parallelamente o attraverso, tramite l'ufficio tecnico, farò, ordinerò la devolizione delle opere abusivamente realizzate liberando le aree per la localizzazione di nuove industrie che abbiano un ritorno occupazionale di industrie sostenibili. questo è il mio primo atto, è il mio primo impegno che prendo con voi. il primo atto che io farò dopo la convalide degli eletti è la risoluzione, l'annullamento del contratto con la Biopower e cioè con quel temibile insegnatore che vogliono bruciare l'immondizia, l'hanno detto nel loro programma. annullerò quel contratto e parallelamente o attraverso, tramite l'ufficio tecnico, farò, ordinerò la devolizione delle opere abusivamente realizzate. liberando le aree per la localizzazione di nuove industrie che abbiano un ritorno occupazionale, di industrie sostenibili. Questo è il mio primo atto, è il mio primo impegno che prendo l'ufficio tecnico, farò, ordinerò la devolizione delle opere abusivamente realizzate. attraverso, tramite l'ufficio tecnico, farò, ordinerò la devolizione delle opere abusivamente realizzate. attraverso, tramite l'ufficio tecnico, farò, ordinerò la devolizione delle opere abusivamente realizzate. attraverso, tramite l'ufficio tecnico, farò, ordinerò la devolizione delle opere abusivamente realizzate. attraverso, tramite l'ufficio tecnico, farò, ordinerò la devoluzione delle opere abusivamente realizzate.